Da oggi le farmacie di centine sono disponibili per riuscire a fare i tamponi di fine isolamento. Lo studente è il positivo, il contatto. Per ognuna di queste categorie è una diversa regola. Test di uscita gratuito dalla malattia, le farmacie partono, ma in ordine sparso. La rivoluzione, destinata a velocizzare i tempi di fine isolamento, è frenata dalle nuove norme, che alimentano più di qualche perplessità. Tutte cose nuove, informazioni nuove, quindi sono tutti un po' spesati. Le regole sono arrivate, un po' torbide e un po' incomprensibili, ma data la bravura e l'intelligenza dei farmacisti, spero che risolviamo tutto. In farmacia hanno diritto, tramite tutti i soggetti in quarantena e in isolamento, che sono asintomatici da più di tre giorni, accedendo al portale della Regione Veneto, tramite il proprio speed possono scaricare questo provvedimento e con questo modulo venire in farmacia. Districarsi tra differenti impegnative, moduli, documentazioni, sarà una sfida ulteriore per i farmacisti. La scuola primaria e dell'infanzia, tramite la comunicazione ULS che viene data dalla scuola, anche essi si possono recare qui in farmacia a fare il tampone. Per quanto riguarda invece la scuola secondaria, tramite ricetta medica redata dal medico. Le ricette, le prescrizioni, i documenti da trattenere, quello che rilascerà il medico e come gestirle. Questa mattina abbiamo ancora avuto un rodaggio, di conseguenza qualcuno con un'idea non chiara, con documentazione non completa. I test rapidi di prima generazione in farmacia sono gratuiti da oggi, grazie allo stanziamento di 5 milioni di euro dalla Regione. Ci stanno arrivando richieste? Ci stanno arrivando richieste, noi ci stiamo aggiornando perché ancora sono arrivate le circolari ieri, tardo pomeriggio, stiamo cercando di capire bene come funzionerà.